siamo venuti a casa di maurizio de giovanni uno dei più grandi giallisti italiani per farci raccontare il suo ultimo libro in fondo al tuo cuore andiamo ciao maurizio buongiorno buongiorno accomodatevi dunque questo è lo studio sarebbe il luogo dove teoricamente io dovrei essere lasciato dalla mia famiglia in piena tranquillità scrivere dove invece come vedete c'è un casino insomma non indifferente come potete immaginare naturalmente libri ovunque io amo stare in mezzo ai libri e mi danno sicurezza mi danno tranquillità io fin da da ragazzo sono uno di quei ragazzi crescevano in libreria ti parlo di qualche scaffale particolare al quale io sono molto molto affezionato questo per esempio sono tutti i libri di ed mcbane tutti e 55 romanzi pubblicati in italiano e che sono un po una falsariga alla quale io mi attengo sia per la scrittura che è assolutamente meravigliosa e straordinaria sia per il concetto di squadra che io cerco di replicare con la serie dei bastardi e oltre mcbane come giallisti diciamo storici noti ma ovviamente chandler ovviamente ammet certo ce l'ammet ma anche diciamo tra i classici recenti el roi sono tutti sono tutti straordinari autori i giallisti americani che fanno che portano che seguono la strada indicata al grandissimo simenon che un po il capo simite di tutti quanti noi quello che ha portato il romanzo nero per strada per esempio di simenon tu preferisci i megret o i cosiddetti roman roman io trovo che simenon sia un autore tra i massimi del novecento e lo metto sul piano di cassia marquez e quindi non credo che sia possibile incasellarlo in un genere quelli 75 romanzi di megret sono sicuramente meravigliose perle ma megret era un veicolo megret un veicolo attraverso il quale si parla leggeva il suo tempo di credo che sia il lavoro che deve abbassare ogni scrittore di romanzi neri cioè cercare di leggere il proprio tempo attraverso il veicolo del delitto lì su invece ci sono c'è un su dei libri che mi è stato difficile procurarmi ma che costituiscono una fonte pressoché inesauribile per la narrazione e sono le arringhe degli avvocati de marsico e porzio che sono dei grandissimi penalisti che hanno attivi a napoli agli inizi del novecento e fino agli anni cinquanta questi penalisti nelle loro arringhe di parte civile difensive raccontavano in maniera meravigliosa in maniera straordinariamente viva i grandi delitti della loro epoca la scrivania è la parte più disordinata apparentemente ma anche più fattiva io ancora devo riporre ed è su tutta la parte destra la documentazione che mi è stata necessaria per scrivere in fondo al tuo cuore che l'ultimo che l'ultimo romanzo di ricciardi davanti a me oggi ci sono i soggetti di serie i soggetti di puntata della serie televisiva che verrà tratta dei bastardi di pizzo perché esatte basata di pizzo qualcosa diventerà una serie televisiva per rai 1 e tu utilizzi la videoscrittura già in fase di prima stesura di assolutamente anche perché una grafia è leggibile quindi praticamente sarebbe impossibile anche per me stesso capire quello che ho scritto è misterioso per me di come tutti gli scrittori abbiano fatto nei secoli precedenti a scrivere senza il word parlavamo di simenone simenone aveva tutta una sua teoria per la macchina da scrivere aveva tutta una sua ritualità ma era anche un altro tempo io ricordo sempre l'aneddoto che tu conoscerai che ha una telefonata di un amico che chiese alla cameriera di simenone se potesse parlare col maestro e la cameriera disse no sta scrivendo un romanzo e lui disse va bene allora aspetto che secondo me definisce tutta la meraviglia di questo genio assoluto Maurizio tu hai cominciato a scrivere e a pubblicare dopo i 40 anni in modo anche abbastanza casuale vuoi raccontarci questa storia sì io sono un lettore ancora adesso non mi sento è difficile per me definirmi uno scrittore propriamente detto perché per me lo scrittore era una persona baciata da un talento pressoché divino che io non credo di avere io ero un lettore poi alcuni amici mi scrissero per scherzo a un concorso per giallisti esordienti che si teneva al gambrinus che è un caffè storico napoletano e io mi sono ritrovato a non voler dare l'impressione di avere paura per cui ci sono andato avevo 47 anni nel 2005 quindi ero lontanissimo da ogni idea di scrittura invece questo mio racconto inventato sul momento che aveva come protagonista questo commissario che vedeva i morti negli anni 30 vinse il concorso parte di aver pubblicato a 47 anni aver scritto questo cioè tu prima non scrivevi proprio c'eri solo un lettore sì solo un lettore non avevo mai scritto una frase di narrativa è chiaro che ogni ogni spettatore di una partita di calcio sogni di giocare a pallone prima o poi no però non se devo dirti che la mia intenzione era quella di darmi la scrittura devo devo dirti no fondamentalmente adesso dirò una cosa che apparentemente orribile ma io non è che ami lo scrivere in sé io racconto delle storie se ho delle storie da raccontare se ho delle cose da dire allora le scrivo le dico non sono uno che si siede pensando adesso scrivo come ti poni rispetto al problema dello stile io ho una teoria tappezziera della scrittura cioè io penso la scrittura se più nemmeno come un divano la storia è la struttura legno solida forte che deve sostenere tutto anche il peso del lettore i personaggi sono i cuscini quindi devono essere accoglienti morbidi devono trattenerti e l'ambientazione la scrittura e la tappezzeria quella che ti deve far venire voglia di sederti se non ci sono tutti e tre questi elementi stare sempre scomodo in quel libro stare sempre scomodo in quel racconto se ci sono tutti e tre invece avrai voglia di rimanerci in quel libro il più tempo possibile i libri belli sono quelli che a pagina 2 ti hanno portato via è un biglietto per un viaggio un libro in fondo al tuo cuore il settimo romanzo della serie del commissario ricciardi la storia si svolge nella seconda settimana di luglio del 1932 estate che fu tra le più calde della storia del secolo quindi io racconto la settimana di terribile calore che cambia le emozioni cambia le passioni ed è la storia di la storia principale la storia del giallo è quella dell'omicidio di un professore universitario di ginecologia che viene gettato dalla finestra del proprio ufficio all'ultimo piano del policlinico cade il professore cade mentre cade allarga le braccia come se volesse cingere la rovente notte d'estate che lo accoglie cade siccome durante la breve colluttazione ha buttato fuori tutta l'aria che aveva nei polmoni adesso il suo corpo incoerentemente gli impone di ispirare anche se col nuovo ossigeno non servirà niente non farà nemmeno in tempo ad arrivargli nel sangue e nemmeno il naso registrerà il profumo che viene dagli alberi dai fiori e dalle oiole dalle cucine con le finestre aperte del quartiere immerso nel calore come in una maledizione cade con gli occhi chiusi senza guardare le luci ancora accese di chi non riesce a dormire nonostante l'ora tarda è un po più lontano al di là dei tetti dei palazzi che dichiarano verso il mare i lampioni della grande strada che pone fine al reticolo dei vicoli cade il professore e intanto i suoi pensieri si frantumano in mille piccoli pezzi lampi di coscienza che non costruiranno mai più una di quelle frasi armoniose per le quali è giustamente famoso nelle aule universitarie ormai sono come frammenti di uno specchio rotto che riflettono nella caduta quello che possono catturare rimpiangendo quando insieme componevano una sola bella immagine uno dei frammenti cattura l'amore un saluto affettuoso agli amici di fanpage